Ma come fanno i giudici di una gara di tuffi a valutare se un tuffo è buono oppure no e quindi attribuire il loro punteggio? Allora, in primo luogo cosa fanno? Utilizzano dei criteri, cioè osservano da vari punti di vista il tuffo e tengono conto, ad esempio, della sincronizzazione, della distanza dalla pedana, dell'angolo di ingresso in acqua. Per ciascuno di questi criteri, di questi punti di vista, hanno a disposizione degli indicatori, cioè dei punti di riferimento che sono in grado di dirci se quel criterio è soddisfatto pienamente o meno. Ad esempio, la distanza media dalla pedana non dovrebbe superare i due piedi, che sono circa 60 cm, e l'angolo ideale di ingresso in acqua dovrebbe essere di 90 gradi. A ciascuno di questi indicatori poi vengono attribuiti dei valori, che condurranno alla scelta della paletta ad alzare alla fine per attribuire il voto al nostro tuffatore. Quando dobbiamo svolgere un'attività di valutazione in ambito didattico, ci muoviamo esattamente in questo modo, anche se a volte tutto ciò avviene in modo implicito, cioè noi abbiamo in mente i punti di vista dai quali stiamo osservando la prestazione dello studente, abbiamo in mente qual è la prestazione attesa e le attribuiamo un valore. In alcuni casi, però, potrebbe essere interessante progettare questa dinamica, cioè ragionare consapevolmente su quali sono i punti di vista dei quali osserviamo la prestazione, quindi i criteri, gli indicatori che vi corrispondono e i valori che intendiamo attribuirgli. Per organizzare la nostra riflessione riguardo i criteri, gli indicatori e le valutazioni che vogliamo attribuire attraverso di essi, possiamo provare ad organizzare una rubrica di valutazione. La rubrica è uno strumento concettualmente molto semplice, perché si tratta di una tabella, organizzata quindi con contenuti messi in righe e colonne, nella quale troviamo l'indicazione dei criteri. In questo caso stiamo parlando della rubrica che ci può aiutare nella valutazione di un saggio. criteri potrebbero essere la comprensione dei contenuti del corso che emerge dal saggio, la qualità dei concetti espressi, la correttezza della scrittura, la gestione della bibliografia e delle citazioni. Per ciascun criterio abbiamo poi degli indicatori che ci dicono se la prestazione rispetto a quel criterio è quella attesa o meno. in questo caso, rispetto al criterio correttezza delle scrittura ed equilibrio nel bilanciamento delle varie sezioni, abbiamo che la valutazione massima rispetto a questo criterio si avrà quando la scrittura è corretta e ben bilanciata nello sviluppo dei punti chiave del saggio. A questo indicatore, così descritto, corrisponde poi la definizione di un punteggio che noi intendiamo attribuire. Lo strumento della rubrica analitica è, prima di tutto, uno strumento di progettazione. È uno strumento che spinge il docente a riflettere su quali sono i criteri, quindi i punti di vista, dei quali osserverà la prestazione e quali sono i livelli di prestazione attesa dalla migliore alla peggiore su ciascun criterio e quanto vale dal punto di vista, poi, dell'attribuzione di un punteggio. Possiamo vedere molti diversi esempi, per esempio, in questo caso, se parliamo dello svolgimento di un problema relativo a una materia di tipo scientifico, avremo come criteri possibili la comprensione del problema che emerge da come lo studente ha risolto il problema, la qualità della strategia di soluzione, lo svolgimento dei calcoli, ad esempio. E qua vedrò che, ragionando in termini di indicatori, vediamo, ad esempio, che il criterio dello svolgimento dei calcoli prevede una serie di possibili indicatori, da quello che definisce la prestazione peggiore, in cui i calcoli sono per lo più imprecisi, ad una prestazione un pochino superiore, in cui i calcoli presentano diverse imprecisioni, ad una in cui i calcoli sono per lo più corretti, ma presentano qualche imprecisione, fino alla situazione in cui tutti i calcoli sono corretti. In questo modo, io sono in grado di descrivere non soltanto quale sarà la mia modalità di valutazione della prestazione, ma anche sono in grado di descrivere con chiarezza qual è la prestazione attesa. Per cui, i miei studenti sanno che io mi aspetto che, dallo svolgimento del problema che io presenterò loro, emerga una piena comprensione del problema e della sua collocazione rispetto ai contenuti del corso, che ci sia una strategia utilizzata nel suo svolgimento particolarmente originale ed innovativa, che le nozioni teoriche siano applicate con rigore e precisione, che tutti i calcoli siano corretti e che l'uso delle notazioni sia corretto ed allineato allo standard internazionale della disciplina, e così via rispetto a tutti gli altri aspetti. Non sempre la prestazione di uno studente, però, può essere analizzata con questo livello di dettaglio. Ci sono delle prestazioni rispetto alle quali abbiamo la possibilità di esprimere dei giudizi più complessi ed articolati, che non arrivano a questo livello di dettaglio. Anche in questo caso, però, è interessante provare ad impegnarsi comunque in una loro formulazione. Lo strumento che si utilizza in questo caso sono le cosiddette rubriche olistiche, che quindi non articolano tutti i criteri di valutazione sulla base dei diversi livelli previsti per ciascun indicatore, ma danno delle descrizioni più integrate, olistiche appunto, della prestazione attesa con una descrizione più ricca e complessa che rispecchia quella che sarà la visione del docente da un punto di vista maggiormente articolato. Ad esempio, in questo caso, ci si riferisce ad un project work. Il project work dimostra una approfondita comprensione del contesto, una corretta interpretazione dei vincoli normativi e procedurali, unisce un'interessante originalità di ideazione ad un corretto utilizzo di tecnologie e metodi, riuscendo a comunicare tutte le scelte chiave in modo efficace e sintetico. In questo caso, ci riferiamo ad una prestazione piuttosto complessa rispetto alla quale il docente non ritiene opportuno andare a sviscerare dettagliatamente i singoli criteri di indicatori, ma preferisce orientarsi verso una valutazione più integrata. Entrambe le direzioni, quella della rubrica analitica e della rubrica olistica, possono essere efficaci in differenti contesti. L'elemento importante è che ci sia un momento di riflessione e di formalizzazione da parte del docente del come andrà ad osservare e valutare le prestazioni che lo studente sarà chiamato a svolgere per dimostrare i risultati di apprendimento attesi. Normalmente, nel momento in cui si affronta la progettazione di una rubrica di valutazione, che sia analitica o che sia olistica, si fa davvero un passo avanti importante nella consapevolezza di che cosa vogliamo che effettivamente i nostri studenti sviluppino in termini di conoscenza, abilità o competenze. Per cui è sempre consigliabile, dopo aver fatto questo lavoro di progettazione, andare a verificare che ci sia una perfetta coerenza con i risultati di apprendimento attesi che avevamo formulato inizialmente. Perché spesso può accadere che questo processo di formulazione di dettaglio ci porti ad esplicitare meglio i risultati di apprendimento attesi anche a noi stessi e quindi determini l'esigenza di andare a specificarli con maggiore chiarezza. Nella progettazione dell'importante fase della valutazione, un momento particolarmente rilevante è quello nel quale riflettiamo su quali sono i criteri che vogliamo adottare, quindi punti di vista dai quali osserveremo la prestazione dello studente, gli indicatori, quindi la descrizione dei vari livelli di prestazione attesa rispetto ai vari punti di vista e i valori che decideremo di attribuire ai vari livelli di prestazioni. Tutti questi contenuti possono essere integrati e descritti all'interno di rubriche, che saranno rubriche analitiche se vanno a dettagliare specificamente ciascun criterio indicatore o valore, o olistiche se invece si focalizzano su una descrizione maggiormente integrata di vari livelli possibili di prestazioni.